Mi ha fatto molto male. C'è stato un signore che si è avvicinato. Visibilmente commosso, Umberto Tamburini ha preso tra le sue mani la medaglia di liberazione che gli è stata consegnata questa mattina in prefettura. Una medaglia meritata, poi detto, come l'hanno meritata i tanti miei compagni che non ce l'hanno fatta. Tamburini, militare italiano, è stato deportato nel 1943 perché non volle collaborare con i nazisti e aderire alla Repubblica Sociale. Nell'aprile del 1945 è fuggito dai lager di Berlino con un compagno e un mese dopo è stato liberato dai russi sul fiume Elba in Germania. Tra i ricordi indelebili rimane la fatica ma soprattutto il dolore per le fucilazioni di chi tentava la fuga ma purtroppo veniva catturato nuovamente. Tamburini è uno dei pochi che ci è riuscito a fuggire ed è ora presidente e fondatore della sezione provinciale di Rimini dell'Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti. Con lui oggi ad accompagnarli in questo giorno importante le figlie e a rendergli omaggio le autorità civili e militari della città. Un commento lo ha riservato anche alla proposta di legge regionale che vuol vietare la vendita di gadget su Mussolini e il fascismo. Sono d'accordo, non si scherza con certi avvenimenti, non devono più accadere cose simili.